buon pomeriggio amici e amiche della rubrica scommettiamo che la prendiamo allora la premessa è sempre quella che ultimamente faccio ovvero con le scommesse divertiamoci ma teniamo sempre il profilo basso cioè scommettiamo per il piacere anche di guardarci la partita in qualche maniera più adrenalinica ok deve essere sempre comunque un gioco ora affrontiamo quello che è tra virgolette la due giorni di champions league e lo faccio con un unico video dividendo le partite del martedì e del mercoledì allora prima di entrare nei contenuti vi invito a iscrivervi al canale se non lo avete già fatto e azionare la campanellina per rimanere aggiornati sui contenuti partiamo da martedì e la prima partita è chiaramente quella della juventus allora statistica impressionante la juve non ha ancora vinto fuori casa quindi da quest'anno la juve ha come ruolino di marcia esterno la retrocessione ma siccome noi non vogliamo credere a tutto questo mettiamo un bel due fisso della juve in israele poi borussia dormut silvia in questo caso la l'uno sembra il pronostico scontato visto la qualità dei due team in questa stagione il silvia in profonda crisi nel proprio campionato celtic lipsia chiaro tutti giocherebbero due io però voglio fare qualcosa di diverso e mi voglio giocare entrambe le squadre segnano questo perché ellipsia è comunque squadra più forte sicuramente ma giocare contro i celtic a glasgow in quel con quel pubblico c'è sempre una spinta importante della squadra di casa e quindi mi vado comunque a giocare la possibilità che la squadra di casa vada a segno per quanto invece riguarda la dinamo di zagabria contro il salisburgo in questo caso anche qui mi gioco il fattore campo e lascio a voi la scelta se giocare l'uno fisso in cerca della quota bella sostanziosa o l'uno x milan celsi milan celsi x voglio dare fiducia al milan che comunque sta dimostrando di essere squadra importante psg benfica anche qui il discorso è il classico uno fisso però mi vado a giocare ancora entrambe le squadre segnano perché comunque il psg spazi ne lascia e benfica ha già dimostrato di essere molto molto bravo a sfruttare questi spazi l'ultima partita è quella dello shaktar contro il real la quota è bassa se volete chiudiamo le scommesse con un 2 del real e questo è per martedì adesso orientiamoci al mercoledì di champions e partiamo subito con l'atletico madrid contro il bruges attenzione questa è la premessa il bruges in questo momento sta dominando il suo girone di champions ma mi affido all'orgoglio della squadra del ciolo e quindi mi gioco l'uno fisso anche se chiaramente è un un azzardo se così vogliamo chiamarlo napoli ajax chiaramente tutti giocano l'uno fisso io mi vado a giocare entrambe le squadre segnano penso che l'ajax possa segnare a napoli barcellona inter 11 assolutamente uno perché credo che il barcellona abbia una grande voglia di rivalsa nei confronti dell'inter l'everkusen porto partita complessa veramente difficile anche da pronosticare gol entrambe le squadre segnano poi rangers liverpool 2 anche se questo liverpool veramente fa fa molta 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 fatica e infine il tottenham contro il francoforte è uno fisso qua per forza mi devo andare a cercare l'uno quindi i pronostici ve li ho dati spero come ho detto che siano vincenti anche questi come quelli di domenica e come sempre vi dico vi saluto con scommettiamo che la prendiamo buona serata ragazzi grazie a tutti grazie a tutti